Ciao Riviere! Con le festività natalizie che si avvicinano rapidamente, la città di Riviere offre tantissime attività divertenti per tutta la famiglia. Incominciando con la dodicesima parade annuale di Priscilla Nicholson e di Babbo Natale, sabato il 30 di novembre alle 3 e mezza del pomeriggio. La sfilata inizierà al parcheggio posteriore di Riviere High School e si concluderà con l'evento di illuminazione dell'albero di Natale in fronte al municipio alle 5 di sera e si festigia fino alle 8 di sera dove potete godere una serata festosa di luce, di musica e molto di più. Inoltre, non perdetevi la nonna edizione della raccolta annuale per cappotti dei bambini il 12 di dicembre al ristorante Drift Riviere alle 6 e le 9 di sera. Per altre informazioni visitate la pagina Facebook di Colts for Kids Riviere. Finalmente, unitevi a noi per il concerto annuale Sounds of Christmas, domenica il 15 di dicembre alle 4 presso la Chiesa di Sant'Antonio. Questo è un evento gratuito. Chiediamo ai partecipanti per favore di portare prodotti non deperibili per aiutare i bisognosi. Ci sono molti altri eventi in programma in corso del dicembre, quindi assicuratevi di seguire Riviere TV per le novità. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo la prossima settimana per rimanere in The Loop Riviere.